145 progetti per un valore complessivo di oltre 400 milioni di euro. È la risposta della Toscana ai bandi emessi dal Ministero della Transizione Ecologica nell'ambito del PNRR. Si tratta di progetti messi a punto grazie al lavoro dei tre ambiti territoriali della Toscana in sinergia con i gestori del servizio di smaltimento. I bandi permetteranno di ottenere finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti già esistenti. Le opere dovranno essere completate entro il 2026 e riguarderanno tutte le zone della Toscana, offrendo una visione di filiera del ciclo dei rifiuti e dando un forte impulso alla transizione ecologica, come hanno spiegato il Presidente della Regione Eugenio Gianni e l'assessore all'ambiente Monia Monni. I 400 milioni che sono stati presentati in termini di progetti rappresentano una componente di quel complesso di 3 miliardi e mezzo su cui in questo momento abbiamo assicurato fondi per progetti concreti. E sono convinto che man mano che andremo avanti ci renderemo conto che la Toscana davvero da qui al 2026 avrà un volano di finanziamenti attraverso il PNRR su quella che è l'accezione ambientale dei progetti che è in grado di dare un forte sviluppo a quello che è la transazione ecologica verso un mondo che abbia caratteristiche ambientalmente molto più sostenibili. È un progetto complessivo molto importante che sarà un contributo fondamentale anche per la redazione del piano dei rifiuti ed è un insieme di progetti che renderà la nostra regione più autosufficiente, più autonoma dando una lettura del ciclo dei rifiuti che non è soltanto orientata allo smaltimento e quindi alla risoluzione di un problema ma che punta a creare una vera e propria filiera di economia circolare andando a sostenere nuovi cicli produttivi con i nostri materiali riciclati o recuperati.